oh neone è matto questo è da clipare mica che one tappino che gli ho fatto mamma mia ma questo è un coglione no ma che fai bandit mi nasce un po' di chino non posso fare niente io da qua faccio il giro da bar anzi guarda sia la faccia per la botola non 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 non